Salve amici di Advanced Italian, in questo video andremo a vedere la prova di competenza linguistica dell'esame CLI4 livello C1, prova del giugno 2007. Questa parte dura 1 ora e 15 minuti, ci sono 4 esercizi diversi l'uno dall'altro. In questo video andremo a vedere i primi due, poi in un video successivo analizzerò anche i restanti due esercizi. Qui avete un testo e alcuni spazi da completare con parole che non vi vengono date, dovete trovarle voi leggendo appunto il testo. Questo non è tra gli esercizi più difficili del compito. Una nuova spiegazione della scarsa presenza femminile in Parlamento. Politica non è il maschilismo a frenare le italiane. Se non riuscite a rispondere ad una determinata parola, continuate a leggere la frase, perché solitamente capendo il senso della frase si riesce a trovare anche la parola. Siamo abituati a pensare che se le donne sono assai poco presenti nel Parlamento italiano, ciò avvenga innanzitutto a causa delle resistenze e dei pregiudizi maschili. Quindi, pur negare il peso delle une e degli altri, pur senza negare, quindi nonostante il peso delle une e degli altri, E' chiaro che si tratta di una spiegazione insufficiente, dato che da 60 anni le donne, esercitando il divoto, esercitare il diritto di voto. Il voto è un diritto che viene esercitato. Condividono con gli uomini la responsabilità di inviare camere, un'esigua rappresentanza femminile, di inviare alle camere. La rappresentanza si invia alle camere. Ora il libro di una giovane ricercatrice, Giulia Galeotti, ricostruendo la delle battaglie che hanno portato al soffraggio femminile, ricostruendo la storia o la cronologia delle battaglie che hanno portato al soffraggio femminile, fornisce una spiegazione piuttosto originale di questo fenomeno. Ad ostacolare la impolitica delle donne italiane, la presenza in politica delle donne italiane, o la partecipazione in politica delle donne italiane, o anche la vita, perché si parla di vita politica. Ad ostacolare la vita in politica, ma forse no, vita perché dovrebbe essere vita politica, non vita in politica. presenza o partecipazione delle donne italiane, osserva l'autrice, sono state in fondo le modalità stesse con cui il voto fu concesso nel 1946 tutto in una volta, tutto insieme, tutto in un insieme, tutto in una volta. In molti altri paesi l'estensione del soffraggio aveva rappresentato un processo graduale, perciò l'insieme delle società aveva avuto tempo e modo di abituarsi gradualmente alla presenza in politica delle donne sia come elettrici, coloro che votano, che eleggono, che come elette, come deputate o parlamentari. La concessione del voto alle donne senza nessuna gradualità produsse in una società come quella italiana conseguenze che si fanno sentire ancora oggi, tutt'oggi. Però tutt'oggi è una parola, quindi siccome sono due in questo caso, la undici è separata da oggi, dobbiamo mettere anche oggi, o ancora oggi o anche oggi. Conseguenze che si possono così riassumere, gli uomini in Parlamento sono percepiti come rappresentanti di tutti i cittadini, le donne soltanto come portavoce del genere femminile, le donne invece soltanto come portavoce del genere femminile. Insomma, nel nostro immaginario collettivo le donne rappresentano soprattutto le donne, l'idea ben testimoniata dal che generalmente vengono assegnate alle donne ministeri di ambito sociale e familiare educative. Un'idea ben testimoniata dal fatto, è un fatto, è un dato di fatto, o anche dal dato, dal dato che generalmente vengono assegnate alle donne. Ma dal fatto suona meglio. Qui invece avete degli spazi e delle frasi che devono essere inserite all'interno di questi spazi per completare il significato. Sono prima da leggere il testo e poi cercate di capire se riuscite a rispondere o no. Se non ce la fate, continuate e in fondo poi, basandovi su ciò che è rimasto, potete avere meno difficoltà a decidere quale sia la risposta esatta. Abbiamo Napoli, cucita addosso. Napoli è notoriamente una città, dei contrasti forti, architettonici, sociali e culturali. Tutto è sempre pericolosamente in bilico tra bene e male e che per certi versi rappresenta parte del fascino ineguagliabile della città. Debba essere tra i palazzi nobili del centro storico, quando abbiamo realizzato il nostro stabilimento, che infatti non gli ha mai dato problemi con la filosofia napoletana, dal quale provengono molti dei nostri lavoranti, come quella di Sartoria partenopea, per la cui realizzazione ci impiegano almeno 20 ore, nel panorama delle aziende produttive di abiti sartorali, in un equilibrio che ha dell'incredibile, insomma il nostro è un attentico made in Italy salariale, di trovarsi in un cartier elegante, poi l'angolo di città noto a tutti. Continuiamo. Per ora non rispondiamo. È proprio per questo che solo a Napoli poteva nascere e crescere una storia. Si tratta di una realtà conosciuta in tutto il mondo per la qualità dei suoi capi. Oggi vanta 150 addetti. Poteva nascere e crescere una storia come quella di Sartoria partenopea, quindi F. Si tratta di una realtà conosciuta in tutto il mondo per la qualità dei suoi capi. Oggi vanta 150 addetti, un fatturato di 8,5 milioni di euro, la sede di una simile realtà di nicchia si immagina e invece no. È assolutamente in linea con un'azienda del livello di Sartoria partenopea. Scelga il quartiere popolare, quindi ha scelto un quartiere popolare, ma probabilmente si immagina qualcosa di più. Si immagina che debba essere tra i palazzi nobili del centro storico, ha invece no, è assolutamente in linea che un'azienda del livello di Sartoria partenopea scelga il quartiere popolare di Scondigliano come sua sede. Assolutamente in linea che un'azienda del livello di Sartoria partenopea scelga il quartiere popolare di Scondigliano, in linea con qualcosa, con la mentalità napoletana, con la filosofia napoletana. E anzi realizzi il suo nuovo stabilimento a Scampia per il suo disagio sociale giovanile. Lasciamolo. Dice il direttore dell'azienda Biasi, Scondigliano era la nostra sede storica e non abbiamo voluto tradire questo quartiere storica e quando abbiamo realizzato il nuovo stabilimento B non abbiamo voluto tradire questo quartiere 21 dal quale provengono molti dei nostri lavoranti. Quindi 21 è E. Negli anni 80 inizia la storia di Sartoria partenopea che subito si contraddistingue per qualcosa. Nel panorama delle aziende produttrici di abiti sartoriali si contraddistingue. L'intera produzione continua a Blasi viene realizzata a Napoli per le nostre creazioni. Impieghiamo solo materie prime nazionali. nazionali insomma il nostro è un autentico made in Italy salitoriale perché prendiamo solo dall'Italia solo materie prime nazionali. quindi la 23 era L, sì, 24, già che è realizzata interamente a mano un piccolo capolavoro che rende unico ogni capo a mano per la cui realizzazione si impiegano almeno 20 ore perché per farla a mano non ci mette in molto tempo. Quindi G, 24 G. Abbiamo detto che la prima, il 15 e il 19 non abbiamo risposto. E sono rimaste C, I, E ed M Quindi vediamo quali di queste quattro appartiene alla 15. Napoli è notoriamente una città dei contrasti forti architettonici tutto è sempre pericolosamente in bilico fra bene e male e che per certi versi rappresenta parte del fascino ineguagliabile della città. In un equilibrio che ha dell'incredibile e che per certi versi rappresenta parte del fascino ineguagliabile della città. E questo è in equilibrio che rappresenta questo equilibrio che rappresenta l'incredibile. Adesso I, l'abbiamo già detto abbiamo C, M e E per 19 Sartoria è assolutamente in linea che un'azienda del livello di Sartoria è una parte europea scelga il quartiere popolare di questo l'abbiamo letto e anzi realizzi il suo nuovo abbigliamento a Scampia per il suo disagio sociale e giovanile. Cosa ha a che vedere con il disagio sociale e giovanile? Quell'angolo di città noto a tutti per il suo disagio sociale e giovanile quindi la 19 è N Vi faccio vedere anche le risposte quindi questa è la C1 avete un punto per risposta esatta meno 1 per risposta sbagliata questa è la C2 qui non avete penalizzazioni se lasciate in bianco ma nemmeno se rispondete in modo errato spero che il video vi sia piaciuto mettete un mi piace al video iscrivetevi al canale scrivetemi cosa ne pensate di questa prova e ci risentiamo nel prossimo video ciao